Ciao ragazzi, anche quest'anno ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a parlarvi di influencer marketing, rispetto all'anno scorso faremo però uno speech un po' più verticale, l'anno scorso avevamo trattato l'argomento in maniera un po' più aperta, un po' più generica, oggi invece vedremo un aspetto particolare dell'influencer marketing che è appunto la fase di selezione, io scherzosamente visto che mia figlia è fan della saga di Harry Potter ho chiamato lo speech infatti Influencer Fantastici e dove trovarli. Brevemente, io sono partner di un'agenzia digitale che si chiama Openbox, siamo specializzati in tutto quello che riguarda i contenuti per il digital e soprattutto in influencer marketing, ho scritto il primo libro italiano sul tema e da due mesi sono founder di una realtà che si chiama Onim che è l'osservatorio nazionale sull'influencer marketing, con cui facciamo report e proviamo a fare cultura su un tema che è molto spesso dibattuto ma non nella maniera corretta. Appunto, influencer fantastici e dove trovarli? A volte quando i brand, i miei clienti mi chiedono progetti di influencer marketing, mi sembra che ci sia molta magia, loro pensano ci sia molta magia nel fatto di come si possa trovare gli influencer giusti per una campagna. In realtà, come vedremo durante lo speech, non è questione di magia ma semplicemente di dati e analisi. L'influencer marketing infatti molto spesso ha una nomea brutta derivante dal fatto che molte persone trattano questo argomento come se si parlasse di digital PR, di PR tradizionale. In realtà non è proprio così, rispetto alle pubbliche relazioni tradizionali, c'è la componente portata dal digitale, c'è la componente dei dati e quindi la possibilità tramite l'analisi di fare attività che sono realmente data driven e quindi ci possono guidare a fare progetti che sono molto più performanti. Nella mia vita io trovo a che fare infatti animali fantastici perché gli influencer, mi piace un'affermazione di Pietro Tagliapietra che è un famoso marketer milanese che tratta influencer marketing, lui in un suo speech un paio di anni fa diceva che gli influencer sono come cani, non per offenderli ma perché ci sono mille razze, ognuno ha delle caratteristiche diverse. Anche noi ci troviamo di fronte all'attività a personaggi molto diversi, adesso per scherzare con i personaggi appunto di animali fantastici c'è l'influencer avido, cioè l'influencer che ti chiede 3000 euro per fare un post nonostante faccia magari 800 interazioni e succede perché lui è il più bravo, c'è il twitter addicted che è un po' triste come vedete perché twitter ormai purtroppo è il social che adoro di più ma effettivamente difficilmente mi chiedono campagne su twitter a parte che non si tratti di live a eventi e poi c'è l'instagrammer da 500.000 follower che i brand godono come ricci quando glielo proponi ma a parte gli scherzi io mi trovo di fronte a richieste del genere che hanno poco a che fare con il digitale dati, alcune sono proprio copia in colla quindi c'è anche gli errori di battitura voluti però per esempio io ne voglio uno con tanta tanto follower oppure si arriva, queste più generiche, se no si arriva anche appunto alla voglia bionda ma che sembra molto intelligente, con stile ma anche alla mano, amante del bio ma anche buona forchetta, ma arrivano davvero queste richieste, cioè a me mi arrivano a chiedere addirittura il colore dei capelli a volte che da una parte lo capisco dall'altra fa capire quanto l'approccio sia più quasi a pelle, quasi più sia una questione di gusti e io non voglio fare, cioè per me la parola marketing legata all'influencer è importante perché se io dovessi scegliere una persona perché ha gli occhi azzurri, i capelli rossi e mangia bio tendenzialmente non farei un buon lavoro per i brand che mi scelgono per fare dei progetti. Scherzi a parte o forzature a parte, vi ho messo dei casi limite, sì, però l'approccio di molti brand è ancora questo, è ancora quello di chiedere semplicemente il numero di follower o di guardare semplicemente il mood del personaggio. Recentemente un mio cliente, avevo fatto una prima fase di outreach di influencer per un brand internazionale che è per la divisione italiana, mi aveva chiesto, voleva degli influencer che non fossero tra virgolette influencer nel vero senso della parola, cioè che facessero altro nella vita e quindi non fossero nell'immaginare quello che si fa semplicemente i selfie. Benissimo, si era fatta una fase di selezione in cui noi avevamo scelto una sportiva, vi faccio anche il nome, avevamo scelto come figura chiave della campagna Dorotea Weaver, che è una famosa sportiva, una biatleta, tra l'altro ultimamente ha vinto il mondiale, quindi oltre a essere una bellissima ragazza, quindi già molto seguita sui social, la vittoria aveva, quando l'ho proposta mi hanno detto che era troppo bella e che quindi avrebbe attirato critiche, magari avrebbe potuto attirare commenti non piacevolissimi, verissimo. Una volta detto questo abbiamo fatto un secondo brief quindi col cliente per capire come migliorare la selezione e alla fine di tutto il brand è arrivato promonendomi un influencer che era una fashion blogger che su dieci contenuti uno su due era in bikini lei. Quindi per dirvi come, non è un problema, ma per farvi capire come c'è un approccio che sia veramente poco professionale ancora e un po' arrabattato, anche perché sono pochi i brand, anche quelli rilevanti che hanno un dipartimento, un team o una persona esperta di influencer marketing. Esistono, in LinkedIn se ne vedono già diversi di annunci di lavoro che richiedono proprio la figura dell'influencer marketing special, quindi diciamo che negli anni ci sarà speranza. Ma la selezione è una sfida? È veramente un qualcosa di complicato per i brand e per le agenzie che fanno influencer marketing. Per quello che mi rispondono quando parlo con le persone io direi di sì, però quello è un parere mio, io ho di pareri. Quindi vi ho portato una slide dell'ultimo report che abbiamo lanciato due mesi fa dell'Osservatorio Nazionale Influencer Marketing. Quindi abbiamo intervistato più di 400 marketer, tra marketer e responsabili di brand che utilizzano influencer marketing per avere uno scenario un po' più, che non sia, ripeto, la mia parola o la mia esperienza. Stando a vedere i dati, non sarebbe una grande sfida la selezione, se vedete, molto poco, tendenzialmente è una delle forze, è una delle sfide meno sentite dai brand. Quindi perché è così complicato? Diciamoci però che molto spesso per capire quanto un qualcosa sia chiave e bisogna avere le competenze. E qui lo dico e qui lo nego, difficilmente molti brand, molti marketer intervistati sono realmente consapevoli di cosa voglia dire. Tant'è vero che in alcuni dati successivi smentiscono l'affermazione che hanno avuto. In questa slide io avevo chiesto, quella a sinistra, quali sono i metodi con cui fate selezione. A persone che fanno campagne, perché la base di iniziale del report era fate o no campagne, quindi per scremare chi veramente utilizza l'influencer marketing. Le due principali strumenti utilizzati per fare selezione di influencer sono i social network, che sì hanno una base di dato, la ricerca per hashtag, i motorin c'è in interni, però diciamo non è uno strumento dedicato, ma che ci fa capire come la risposta precedente alla sfida non avevano le basi per poter rispondere in maniera corretta e che lo strumento più utilizzato insieme al social network sono le liste online. Liste online che non sono altro che post blog spesso dove persone come me senza una vera e propria approccio strategico scelgono i migliori food blogger, i migliori... quindi tendenzialmente l'approccio dei dati è molto è molto limitato. Primo errore delle liste. Secondo errore delle liste c'è molto giudizio personale di chi le scrive, spesso anche magari di conoscenze dirette che diciamo non rendono oggettivo il tutto. Terzo, l'online, il digitale, ve lo sarete sentiti dire miliardi di volte, purtroppo ve lo ripeto, è un ecosistema vivo. Quindi magari se anche questa lista era fatta benissimo e poteva essere veramente uno strumento valido, oggi quando è uscita non è detto che lo sia fra dieci mesi, perché magari uno degli influencer nella lista ha fatto delle dichiarazioni omofobe sei mesi dopo, ha avuto una crisi reputazionale e quindi tutto quello di buono che aveva costruito prima lo ha rovinato e quindi non sarebbe più utilizzabile. Questo ci fa capire veramente la difficoltà. Stessa cosa, quali sono i KPI che valutate quando fate una fase di selezione? Vediamo che spesso c'è ancora il numero di follower, che non dico che l'audience non sia importante, soprattutto in campagne legate alla visibilità, cavolo se sono importanti, però come dico sempre non è tanto importante il numerino dietro l'audience, ma l'analisi della composizione dell'audience, come vedremo che fa la differenza. Questi due slide ve lo fate vedere proprio per far capire come la selezione sia ancora un sistema fatto abbastanza in maniera casalinga, non ci sia quell'approccio che dicevo prima data driven, quindi non ci facciamo guidare dai dati, la maggior parte delle persone che fanno influencer marketing, ma vanno abbastanza a caso. A seconda di questi report, ma per la mia esperienza personale, che diciamo ultimamente è abbastanza compiuta, vi dico cos'è che non va nella fase di selezione che realizzano la maggior parte dei brand o di tante agenzie che si improvvisano un po' più su influencer marketing? Che la selezione è basata solo sulla celebrità e follower, quindi scelgo una persona perché magari è in un trend positivo, perché magari è appena stato nella casa del grande fratello e per quei due mesi avrà un po' di buzz su di lui, o perché ha un numero di follower molto alto, senza come dicevo prima però fare una valutazione. Al di là di veri o falsi, facciamo che siano tutti veri i follower, però se magari il 51% della fanbase è francese, se io voglio fare una campagna solo in Italia, servirà tendenzialmente a poco, anche se questa figura ha 500.000 follower. Due, l'engagement non sempre basta, soprattutto se non facciamo un ulteriore passo, un'analisi qualitativa, perché io vi faccio un esempio lampante, l'ho fatto vedere in una vecchia presentazione, avevo preso alcuni post di Simona Salvemini, che è un ex celebrity che ha fatto il grande fratello, se uno stava a vedere solo l'engagement andava bene, perché aveva 8-9.000 interazioni e un centinaio passa di commenti. Il problema è che la maggior parte dei commenti era come sei hermosa, sei bella. Questa ragazza aveva, in un esempio mi era venuto, aveva un paio di occhiali di un brand che stava sponsorizzando e tre persone gli avevano chiesto dove poter trovare la maglietta che indossava. Quindi l'engagement era stato prodotto, ma era un engagement vuoto per il brand che ci collaborava. Quindi in realtà non basta stravedere l'engagement rate. Io devo comunque poi andare a analizzare, perché i like non valgono quanto i commenti, i commenti non valgono quanto le condivisioni, c'è un escalation. E comunque vada agli stessi commenti che sono molto rilevanti, li devo analizzare un minimo anche qualitativamente per capire che siano veramente legati positivi e soprattutto legati alla mia campagna e al mio brand. La capacità di creare contenuti non viene quasi mai valutata, in realtà è decisiva, perché a seconda della... se non mi accompagno, come spero e non bisognerebbe accontentarsi di fare una campagna semplicemente con un prodotto e un selfie, la capacità di creare contenuti fa la differenza, soprattutto quando facciamo campagne che siano un po' più strategiche e siano costruite un po' più nel complesso. Ci sono obiettivi che non possono non dipendere dalla competenza. Se io voglio fare lead generation e voglio magari fare un ebook, un white paper, faccio fare un webinar, una demo a un influencer magari per far conoscere il mio software di influencer marketing, se questa persona non è competente difficilmente riuscirò a creare dei documenti o dei contenuti con il giusto grado di utilità perché le persone si fidano e mi lasciano il lead. Giusto per farvi un esempio. Il tono voice è fondamentale perché crea affinità tra brand e influencer. Se non c'è questa affinità si nota e si creeranno dei contenuti che sembreranno spuri, non fatti in sinergia. Quindi è inutile se io sono un brand con un tono molto alto e serioso prendere un influencer anche se ha ottimi risultati che ha un approccio molto divertente come uno youtuber perché non porteremo risultati come viceversa. E non c'è errore più grande che selezionare un influencer che ha uno stile e chiedergli di cambiare il suo stile. Ma non perché vogliamo essere gentili e trattarlo bene. È perché lui ha raggiunto quei risultati, quella posizionamento, quelle performance con quello stile lì. Chiedergli di cambiare stile vuol dire danneggiare la campagna perché difficilmente gli utenti riconosceranno questo cambiamento e lo premeranno. La mancanza di credibilità e di know-how. Le campagne che vanno meglio si fondano terribilmente sulla credibilità delle figure. Quindi meglio una persona che fa un po' meno interazioni ma che riesce a creare relazioni ed è credibile per le persone che guardano il contenuto. E come dicevo prima l'approccio data driven, cioè che dobbiamo sempre avere in testa in maniera chiara e netta il fatto che a guidarci non deve essere il bello o il brutto riguardo a un influencer ma deve essere i dati che andiamo a analizzare. Prima di tutto quando partiamo da una selezione, come tutte le attività di marketing, si parte dagli obiettivi. Ma non perché anche qui voglio fare il didascalico, ma perché è la verità. Se io voglio fare una campagna di awareness o di lead generation, cambierà decisamente l'approccio mio alla selezione. Perché se voglio fare una campagna di awareness uno dei dati fondamentali sarà l'ampiezza dell'audience. Perché voglio fare awareness. Se voglio fare il generation non mi interesserà probabilmente la awareness, però dovrò probabilmente scegliere una persona che come dicevo prima è credibile e ha forti competenze su quello che gli devo poi sul topic su cui dobbiamo lavorare. Un altro esempio, migliorare la brand reputation dovrò cercare una figura che è fortemente posizionata ed è fortemente credibile. Che solo così riusciremo a rubare, come in un gioco di vasi comunicanti o brand, riuscirò corroborando con lui a rubargli in parte questa credibilità e questo sentiment positivo per ribilanciare e risistemare e riadeguare il mio aziendale. Quindi gli obiettivi fanno la differenza e la maggior parte delle campagne ha proprio l'errore di partire senza un obiettivo, ma solo per il gusto di voler dire voglio fare una campagna di influencer marketing. Sono molto felice visto che faccio influencer marketing, ma tendenzialmente per esperienza una campagna che nasce con questi presupposti è una campagna che difficilmente porterà risultati positivi se non una manciata di vanity metrics. Lo dicevo prima, ci sono diversi parametri da valutare e ogni parametro va valutato sia a livello quantitativo che qualitativo. Quando io parlo di analisi dell'audience, come vi dicevo, non mi accontento tanto di vedere il singolo numero. È una questione di andare un po' più in profondità e di analizzare in maniera più diretta quest'audience per capirne le caratteristiche. Quindi di un audience voglio sapere la divisione tra uomo e donna, voglio sapere la fascia d'età principale, voglio sapere la nazione e spesso il paese, perché solo così potrò scegliere delle figure utili per me. È inutile se il mio brand lavora su un pubblico che è under 25 e scegliere un influencer che ha il 60% dei follower intorno ai 30 anni. Ma ripeto, non è per essere bravi e didascali, perché se no non farò risultato, non riuscirò a portare il valore che devo portare con la campagna, perché si chiama marketing non a caso l'influencer marketing, non è fatto, ripeto, solo per moda, almeno non dovrebbe essere fatto. Come faccio a fare questo tipo di analisi? Si possono utilizzare dei tool direttamente da facendosi dare gli insight dalle piattaforme social direttamente dagli influencer e quando iniziano a chiederci tanti soldi è doveroso farlo. Posso usare dei tool di analisi dedicati come Social Insider, per esempio, Fanpage Karma, ci sono degli strumenti che ci permettono di avere dei dati di massimo anche senza avere il controllo dell'account. Sul blog spesso dobbiamo richiederli perché ci sono sistemi come SimilarWeb che ci aiutano, ma tendenzialmente i dati di analitica sono sempre più efficaci. Quando io parlo di analisi, gli strumenti migliori però sono gli strumenti, i tool dedicati all'influencer marketing, che sono software create apposta per supportarci in tutte le fasi di influencer marketing, quindi nella fase di ricerca, di analisi, di gestione del progetto e addirittura di monitoraggio. Io ne uso diversi, uno di quelli che preferisco usare si chiama Clear, Clear con la K. Di ogni influencer, ecco io avevo preso Simona Salvendi, avevo già questo screen, per ogni influencer questa è la sua pagina di analisi, cosa mi dice? Mi dice quanti fan ha, che non è male, mi dice attraverso un calcolo di un algoritmo proprietario, mi dice quanto potenzialmente, quale sarà la rich dei contenuti organici, a livello organico che produrrà, in modo da capire spesso il salto se mi può essere utile, capire l'engagement e una cosa molto interessante, mi dice quali sono gli altri brand con cui ha già collaborato, in modo da non far l'errore perché spesso gli influencer sono molto avidi, come dicevo prima, molti sono dei professionisti e altri meno, e tendenzialmente non tendono a dirti che magari due mesi prima hanno fatto una campagna con un competitor, cosa che al vostro cliente tendenzialmente non farà piacere e quindi sempre è meglio saperlo. Come dicevo prima, poi un'altra cosa bella di Clear che ti permette di analizzare in maniera molto precisa, avere dei dati sull'audience, quindi io scoprirò che di Simona Salvemini l'83% dei follower in Italia, quindi se dovessi fare una campagna italiana, va bene, che il 51 è donna, cosa che io non avrei detto prima di fare un'analisi, vedendo che comunque è considerata una bella donna, mette foto molto femminili, tendenzialmente avrei pensato maggiormente a un pubblico prevalentemente maschile, a dimostrazione che la percezione molto spesso portano fuori strada. Ci dice che la divisione per età è un'altra cosa molto bella, il tool Clear, ma anche gli altri fanno cose simili, divide gli utenti in novice, che sono i cosiddetti, possiamo dire gli utenti base, possiamo dire i nano-influencer, casual, che sono i micro-influencer, power-user, che sono influencer un po' più già dai 60-70 mila follower in su, e celebrities. Perché è interessante? Che molto spesso io posso accontentarmi di un influencer con un audience più bassa, se magari però questa audience per la maggior parte è composta a loro volta da ulteriori influencer. Cosa significa questo? Significa che se avrò una ricondivisione l'avrò da un ulteriore influencer, o se avrò delle interazioni saranno fatte dagli influencer. Cosa che in Instagram con quello che viene chiamato like bombing funziona decisamente bene, cioè avere interazioni da profili forti favorisce le performance dei nostri contenuti. Anche l'engagement è un elemento indispensabile da analizzare. Perché? Perché il plus migliore dell'influencer marketing è quello di generare prima dialogo e poi relazioni. È uno strumento fortemente relazionale l'influencer marketing quando è fatto bene. Per quello vi dico che le campagne dove c'è un selfie con il prodotto non è una campagna di influencer marketing. Quello è advertising che tra l'altro è fatto male. Quindi non c'è dialogo e relazione se non creiamo engagement. Anche in questo caso, ve lo dicevo prima, l'analisi deve essere un po' più approfondita di vedere l'engagement 3. Certo, l'engagement 3 lo guardo anch'io perché è un dato che di primo acchito ci può comunque guidare. Ma tendenzialmente bisogna avere la bravura di andare oltre in modo da valutare quelli che sono gli elementi più pesanti. Per me gli elementi più pesanti sono e saranno sempre, ripeto, visto che si parla di relazione e dialogo, saranno le condivisioni e soprattutto i commenti. Fare un minimo di analisi anche dei commenti a livello semantico ci guida per capire quanto è on topic la persona che stiamo selezionando. La reputazione è un elemento che troppo spesso non viene valutato. Invece è decisivo. L'abbiamo detto prima, quando lavoriamo un brand lavoro con gli influencer, è come un gioco di vasi comunicanti. Qualcuno presta all'altro e viceversa. Quindi se l'influencer avrà delle buone qualità, io mi porterò a bordo del brand queste buone qualità. Se viceversa avrà dei problemi, questi problemi verranno catapultate addosso a me. Quando facciamo una campagna con l'influencer, più è lunga questa campagna, peggio è, noi non facciamo altro che infatto demandare il volto dell'azienda a lui. E tutto quello che farà in positivo sarà positivo, ma quello in negativo ci verrà addosso. Quindi, se per sbaglio, un influencer verrà trovato dopo un mese che collabora con noi alla guida di stato di brezza, sarà un problema molto grosso per noi, anche se non sarà direttamente nostro. E questo è fondamentale. Ovvio che non possiamo prevedere quello che succederà, non abbiamo la sfera di cristallo, ma intanto possiamo andare a vedere quello che è successo dietro. Che molto spesso, tante persone hanno un sacco di scheletri negli armadi che non vengono magari visti, ma che possono tornare fuori in maniera randomica e magari in maniera randomica beccano quando stiamo facendoci una campagna. E quindi, già fare un primo passaggio su Google ci aiuta. Tendenzialmente andiamo in seconda o terza pagina, perché i cadaveri di solito si stanno lì. Ma il consiglio è comunque, se è possibile, fare analisi anche un pochettino più approfondite. Questa è un'analisi fatta di web e social listening, valutando per i contenuti trovati riguardanti un possibile influencer e il sentiment. Io ho utilizzato per questa analisi Crimson Hexagon. Ho la fortuna, Crimson Hexagon ne utilizzo tante anche di questo. Anche il tool call, il blog meter. Una cosa buona è Crimson Hexagon che mi permette, al funzionamento col machine learning, permette di insegnare alla macchina a riconoscere i contenuti. Quindi ci permette di fare un lavoro un po' più preciso. Questa è l'analisi fatta per un mio cliente che voleva utilizzare Nina Moric per fare, nel periodo in cui era stata in mezzo al casino del grande fratello, io non seguo, era stata all'interno del grande fratello e lei voleva utilizzarla la settimana dopo. Io girando su Twitter, perché ancora lo uso, ero già imbeccato in un paio di meme clamorosi tipo che l'avevano accumulato, sembrava Michael Jackson, c'era un po' di cose, sei andato a cercare, sono anche divertenti alcuni meme. E quindi allarmato ho detto no, fermi. Siccome però la gente della mia parola magari non si fida, ho detto si fiderà magari di più di da. Questa è l'analisi del sentiment su di lei nei due o tre mesi precedenti quando voleva iniziare la campagna al mio cliente. Beh, direi che forse era meglio non lavorarci insieme. E vi dico che nei contenuti poi andando a analizzarli, proprio questa sua apparizione al grande fratello era molto magra, ripeto le battute erano stai sparendo, addirittura comunanza con malattie pericolose, diciamo che assomigliava a Michael Jackson, cose pazzesche insomma. Non era di sicuro, avrebbe portato una crisi reputazionale grossissima per il brand lavorare con lei. Non tutti abbiamo strumenti del genere, ma esistono strumenti anche un po' più a buon mercato per poter fare un minimo di andagini di questo tipo. Il consiglio è sempre fatela, perché, ripeto, non si sa mai cosa può succedere. Magari un influencer è due anni che fa il bravo, ma due anni prima aveva fatto una dichiarazione sui migranti pericolosa, riesce il topic dei migranti ed improvviso magari un utente si ricorda e va nei commenti del nostro post che non c'entra niente con i migranti, però vede lui, inizia magari a tirarlo fuori e casino porta casino e in un attimo ci troviamo in mezzo a una shitstorm di livelli clamorosi in un flame pericoloso. L'affinità è un parametro fondamentale, vi dicevo prima, che permette di creare, di far emergere e valorizzare la sinergia tra influencer e brand. È un parametro difficilissimo, perché qui non c'è, purtroppo, si può lavorare sia a livello semantico sui contenuti, però tendenzialmente qui è sensibilità della persona, qui è sensibilità del professionista che deve andare a vedere i vari contenuti, sia testuali che video che fotografici e conoscendo bene il cliente, il brand, deve capire che ci sia più aderenza possibile. Difficile? Assolutamente sì. Impossibile? No. Però è indubbio che un passaggino bisogna sempre farlo. Il consiglio è per quello studiare bene il posizionamento e le caratteristiche del brand, perché non accontentarsi del minimo di brief che spesso i brand ti passano per fare una campagna, ma analizzare in fase di iniziare il cliente aiuta a poter fare questa fase di analisi sull'affinità brand influencer in maniera un po' più precisa. L'eco è la capacità di un influencer non di creare engagement o di portare rich, ma di dare, di massimizzare l'espansione di un contenuto e renderlo virale. Molto spesso non è detto che una persona con una grande audience ha una grande capacità di eco e viceversa. Tendenzialmente l'eco, tendenzialmente le persone, gli influencer che hanno una grossa eco vengono definiti bridge, nel senso che sono persone che magari sono a ponte su cluster tematici e di network diversi e che quindi possono lavorare bene creando una specie di collegamento tra questi cluster. Non è un parametro facile da vedere, nella maggior parte dei casi questo tipo di elemento emerge solo facendo una social network analysis, che dopo vi farò vedere un esempio, quindi andando a analizzare i propri network. Non è una cosa che sanno fare tutti, però tendenzialmente non è mai male, anche perché la social network analysis è uno degli strumenti più data driven che esista, al di là dei tool per fare ricerca degli influencer. Ecco, questa è una social network analysis. Sul topic del lancio della nuova Ferrari, non a caso al centro c'è l'account della Ferrari, le righe sono proprio la parte di giunzione con gli altri account. In questa maniera noi possiamo vedere quali sono i gangli più interessanti magari gli utenti in cui ruota attorno le maggiori discussioni. Come vedete ci sono figure che riescono a trasportare la discussione su altri brand, su altri modelli, quali sono bridge. È un tipo di analisi che non è facile a fare, si faceva benissimo su Twitter, perché Twitter ha le API aperte, sugli altri social network è un po' più complesso. Il problema è che se fate campagne su alcuni settori, Twitter in Italia è ancora ben utilizzato, si può ancora lavorarci bene, in America si fanno delle grandi campagne, ma tendenzialmente tutto questo è un ben godi che non esiste quasi più, tendenzialmente perché, risottolineo, le API di Twitter sono fenomenali, ma in Italia anche l'analisi delle conversazioni online che avete visto con la Moric si fanno molto meglio con Twitter, ma tendenzialmente in Italia la Twitter non c'è. Ricordiamoci sempre che in Facebook i profili non possono essere tracciati, in Instagram sono state chiuse ulteriormente le API negli ultimi mesi, bisogna collegare un account e fare proprio un log per riuscire a fare qualcosa, quindi tendenzialmente non è una vita facile per chi fa questo tipo di analisi. Ho parlato prima di tool di Clear, però ve ne voglio segnalare altri. Questi che vi segnalo sono tool dedicati completamente all'influencer marketing, quindi come dicevo prima ci permettono, ci accompagnano e ci supportano in tutte le fasi del progetto. Launchmetrics è probabilmente uno dei migliori, uno dei più famosi, qualche anno fa si chiamava Augure, è stata forse una delle prime software house a credere in influencer marketing, a fare un tool dedicato alla selezione degli influencer. Negli anni si è fusa con un'azienda che si chiamava Fashion GPS e hanno creato un prodotto molto orientato verso beauty e fashion. Tramite Launchmetrics non faccio solo selezione, è veramente un CRM dedicato all'influencer marketing, non faccio solo selezione, ma faccio gestione, posso segnare gli appuntamenti fatti, posso mandare degli inviti tracciati agli influencer per vedere la risposta, c'è all'interno un motore di web e social listening per valutare al meglio successivamente l'impatto delle campagne che creo e per fare tutte le valutazioni di reputation di cui abbiamo parlato, quindi è uno strumento estremamente completo e anche discretamente costoso. Tracar è un prodotto americano, made in USA, sono quasi tutti made in USA, che permette di fare selezione e gestione degli influencer. Lavora molto in chiave social, quindi è una cosa positiva perché i primi tool nati anche all'ex augure lavoravano molto più sui blog perché erano nati in un periodo in cui ancora erano i blog a comandare. Oggi come oggi invece le campagne sono prettamente social, quindi tendenzialmente bisogna poter lavorare sui social. Funziona discretamente bene, lavora sia su Instagram, su Twitter, su YouTube, quindi è uno strumento discretamente valido. Clear, lo strumento che tendenzialmente utilizzo maggiormente io, è una startup israeliana, ormai ex startup perché ormai 5-6 anni sono sul mercato. Clear cosa ha di Mon? È stata la prima a intuire questo cambio sul social, quindi è nato come strumento per fare selezione sui social, cosa che qualche anno fa, ripeto, non era preeminente, oggi è determinante, oggi probabilmente basterebbe uno strumento per Instagram. Clear permette di fare ricerca su blog, su Instagram, su YouTube e anche su Facebook oltre che su Twitter. Una cosa interessante è che oltre alla fase di ricerca ci fa fare la fase di analisi che avete visto, gli screen che avete visto erano di Clear, ci permette di gestire come un CRM il progetto e ci permette con un sistema integrato di monitoraggio di fare direttamente anche la parte di reportistica. Quindi Clear, a seconda dell'hashtag dato, tira su i contenuti fatti in campagna, ci dice quanto risultati hanno prodotto e addirittura ci fa una valorizzazione economica in quello che viene chiamato Dave o Dave, che è praticamente, cosa è il Dave? Praticamente si prende i risultati prodotti dalla campagna e si equiparano ai costi dell'advertising medio sul digital. Quindi la mia campagna, so che per ottenere gli stessi risultati che ha prodotto la mia campagna in chiave di interazioni, reach e così, io a livello di advertising avrei dovuto spendere 50, 70, 80 mila euro e questo è il valore equivalente prodotto dalla campagna. Clear è veramente molto interessante anche perché addirittura permette il tracciamento quando si fa il monitoraggio delle campagne e delle stories, che è un qualcosa che ormai fanno parte in maniera fondamentale, non esiste campagna senza stories. Vi assicuro che i brand fanno ancora fatica a capire le stories, fanno ancora fatica a capire che debbono spendere soldi e spesso tanti soldi per un contenuto che dopo 24 ore svanisce. Però sbattendo il naso sulle performance vi dico che lo stanno capendo. Noi due mesi fa abbiamo fatto una campagna per Fayet, il brand di yogurt greco, abbiamo uno degli influencer, c'erano 10 influencer coinvolti, uno degli influencer coinvolte era Kamiok, la famosa youtuber. Kamiok da sola con una serie di 5 stories ha fatto 1.400.000 views, cioè ha fatto una campagna da solo praticamente. Quella è una campagna che ha prodotto 30 euro di ROI per ogni euro investito nella campagna, come valore equivalente prodotto. Quindi quando si sceglie bene tendenzialmente sempre Kamiok aveva fatto quasi 90.000 interazioni da sola. Ovviamente non tutti hanno la furtata di Kamiok e non tutti i brand si possono, proprio per una questione di affinità, lei si parlava di uno yogurt, lei è molto attenta già di per sé, se uno la segue nei contenuti parla spesso di diete light e altro, quindi tendenzialmente era perfetto. Ultimo, non ultimo, ce ne sono molti altri, sul mio blog matteopogliani.it ho un post blog dedicato sull'iTool, ce ne saranno 50. Io vi ho segnalato quelli che ho provato e che reputo migliori. Ultimo, non ultimo, blog meter, la famosa software house che credo quasi per prima in Italia ha lanciato sistemi di web e social listening, ha un prodotto per la web e social listening ottimo, funziona molto bene. Da qualche anno si è lanciato creando una futures, creando una parte del tool dedicata all'influencer marketing. Il database è costruito ed è validato anche manualmente sull'Italia, quindi se dovete lavorare in Italia tendenzialmente è un ottimo strumento. Come clear ha il vantaggio, ha l'elemento positivo di essere molto social oriented, quindi molto attuale per le campagne che bisogna fare adesso. Integra per la parte di KPI e di monitoraggio le funzioni di blog meter, quindi è una sicurezza perché, ripeto, software di social e web listening di blog meter, di monitoraggio di blog meter è famosissimo e usato da brand a livello internazionale. Ultimo, non ultimi, se vogliamo fare campagne non abbiamo molto budget, non abbiamo un team dedicato, non vogliamo impegnarsi o altro, ci sono i marketplace. Cosa sono i marketplace? Luoghi digitali dove domande e offerta si incontri. Quindi io sono un influencer, mi iscrivo, do il collegamento ai miei social, il sistema prende i dati dei miei social e capisce di cosa parlo maggiormente e mi mette in una lista. Quando io brand arrivo, dico io sono fiat, voglio fare una campagna, il sistema in base al brief che do, agli elementi che do, pescherà tra questa lista di influencer iscritte e gli manderà un brief. Gli utenti sceglieranno se accettare il brief, faranno i contenuti decisivi e verranno pagati per i contenuti fatti, tendenzialmente spesso in buoni. Non è che le campagne con il marketplace sono il male, sono campagne che per certi versi sono un pelino meno qualitative, c'è una selezione che ovviamente è meno precisa e altro, però possono essere utili. Io le uso spesso soprattutto come sostegno la campagna principale, quindi faccio una campagna dove faccio una selezione degli influencer, come avete visto, data driven e magari poi gli collego una campagna fatta con un marketplace a sostegno, come se fosse quasi una social advertising che spinge la campagna principale. VDozer lavora solo con i video e ha un pubblico under 25, quindi ottimo per certi brand che lavorano con il pubblico minore. Friends è ottima per far produrre user generated content agli utenti. Bazzola è possibile addirittura far fare contenuti come blog post e altro. AdMingale è molto simile a Bazzola, quindi lavora su tutti i social, ma è interessante che ha profili un po' anche più alti. E AppStory, anche questo, lavora quasi solo con i blog. AppStory che se non mi sbaglio è di Tribù, dell'agenzia Tribù, molto famosa, quindi è un tool, è un marketplace di ottimo livello. Ce ne sarebbero altri, Lovebuy, Famebit, ce ne sono moltissimi, soprattutto stranieri, ce ne sono diversi anche italiani, come potete vedere. Iscrivetevi magari se avete qualche numero sui social, non per fare le campagne, ma anche solo per vedere come funzionano perché può essere utile conoscere meglio il funzionamento. tutto. Vi ringrazio. Ci sono domande? O sono stata abbastanza chiara? Abbiamo tre minuti di domande, scusate Matteo dai, tanto perché è una domanda che viene fuori sicuro, cioè da rompere il ghiaccio. Eccola. Aspetta, 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 se no non viene nella registrazione. Sì, Clemente. Volevo chiedersi, no, quando parlavi del fatto che l'influencer può fare qualcosa che poi danneggia il brand, no, durante la campagna, ma ci sono dei contratti che si possono fare in cui si mettono delle clausole? Sempre, purtroppo tutto tutto non lo puoi, anche perché più metti clausole più ti chiedono, cioè, è come per esempio, io tendenzialmente ogni brand ti chiede, di all'influencer che per totto mesi non devono lavorare con competitor, va pagata questa esclusiva, e non tutti i brand. Tendenzialmente con gli influencer professionisti si riesce a fare dei gentleman agreement, nel senso, non ti chiedo l'esclusiva, ma non uscire con un posto di un competitor nel giro di un paio di mesi. Però ogni campagna che io faccio c'è sempre un contratto, non solo tra me e il brand, ma tra me e gli influencer. Altra parentesi, tendenzialmente le agenzie influencer marketing lavorano chiaramente la chiave in mano. Il brand ti dice quanto budget ha e ti lascia tutto, cioè li pago io gli influencer. Non vuole sapere niente, tendenzialmente vuole la vita abbastanza più facile possibile, però assolutamente esistono i contratti in cui te specifici in maniera chiara cosa deve produrre, come e quando, cerchi di pararti il più possibile sui danni reputazionali, ma tutto non lo puoi prendere. Anche perché, ti ripeto, più è alta e più poi diventa difficile. Ciao Matteo. Senti, ma influencer marketing applicato al mercato B2B? È molto più funzionale di quanto la gente pensi. È ovvio che bisogna fare dei progetti che siano molto più come concept costruiti, ripeto, non basta mandare il prodotto a casa e serve una selezione che è ancora più basata sul fattore della credibilità, del trust e della competenza. Però provate a immaginare, in certi settori già tuttora funziona. Webinar, white paper o ebook fatti magari con persone, con influencer, magari a quattro mani con il brand funzionano molto bene per fare lead generation. Ovvio che sono campagne più complesse. Sono campagne, bene o male, anche non un espertissimo, forse si salva su una campagna B2C. Farà dei danni, probabilmente, ma in qualche modo si salva. Nel B2B bisogna essere molto più precisi e molto più puntuali. Però, se si riesce a scegliere le figure giuste e a creare il concept buono, e tendenzialmente ti dico, quello che ti ho detto io sono quelle che si usano di più e funzionano, gli webinar e gli ebook, si riesce a fare degli ottimi risultati. Io ho visto in ambito marketing software, ho visto brand come per esempio Samrush, un esempio, non so se lo conoscete, il noto brand che fa SEO, loro lavorano tantissimo con gli influencer, anche a me fanno scrivere sul loro blog, ogni tanto fanno webinar in cui ti devi scrivere, fanno lead generation grazie agli influencer. Magari fanno la giornata su il personal branding, chiamano quattro persone a parlare in fila di quattro aspetti particolari personal branding e ti devi registrare. Ha fatto lead generation grazie agli influencer, per farti un esempio. È un po' più difficile, di sicuro non è per tutti, te lo dico, però non è nemmeno impossibile farlo come tante gente pensa. Mi ringrazio.